A lei e a tutti i giocatori, non si uno no, a tutti, per averci dato ancora il sogno della Champions che ogni volta che io la guardo personalmente, che sono a Piacenza, mi commundo tutte le volte e ci sono anche dei altri amici che condividono con me e quella è una cosa bellissima, avere ancora la possibilità di andare in Champions e poi la domanda che gli volevo dare, lei ci conosce già perché l'anno scorso gli abbiamo dato un quadro che c'era un disegno con il nostro Presidente e lei di fianco, che il Presidente ci dava queste parole qui di non avere paura di nessuno perché essere forti non vuol dire solo vincere le partite quindi io gli voglio dire, abbiamo la possibilità l'anno prossimo di cambiare il colore a mio figlio di mettere un tricolore che adesso l'abbiamo rinnovato con la Coppa Italia, voglio mettere un tricolore l'anno prossimo 100% proviamo, è sicuro che l'atteggiamento come ho detto prima dei giocatori, il nostro sarà per vincere qualcosa e proviamo a vincere qualcosa ancora più importante che la Coppa Italia siamo grazie grazie per tutti voi grazie a voi